salve a tutti ragazzi ben trovati su crystal cross gaming con un nuovo episodio della serie proviamolo e oggi proviamo insieme il prologo cioè la demo di brock the investigator ragazzi questo titolo qua è uscito da un kickstarter che ha avuto successo e il concetto è molto semplice è un titolo di animazione insomma disegnato ed è insieme un punta e clicca e un picchiaduro a scorrimento il che vuol dire che mischia le due cose e io onestamente almeno per quanto è la mia esperienza non l'ho mai visto fare mi piacciono moltissimo entrambi i generi quindi mi sono davvero incuriosito ve l'ho voluto ve l'ho voluto portare quindi gente adesso questo prologo dice contiene il primo capitolo di un gioco ancora in sviluppo nel gioco completo ci saranno dei miglioramenti in particolare nelle animazioni nei combattimenti e nell'intelligenza artificiale quindi tenete ben presente che questa è solo una diciamo una alfa se vogliamo una demo alfa difficoltà combattimenti ma basta sono qui per la storia mi piace un po d'azione vabbè normale standard a 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 Non ce la farò mai Ok, aspetta, il giocattolo Aspetta, trovo una via d'uscita Bocche di fiori Incendio Bocche di fiori, giocattolo, cornice Che diavolo? Infatti non ne ho idea Questo pulsante La coperta, ok Allora, se io prendessi la coperta E la usassi con l'incendio Modalità azione Ok Ok, così che funziona Dispositivo cos'è? Guardatele, è dopo un altro robot In effetti Chiusa Ok, va bene No, i pulsanti neanche funzionano Giusto? Chiusa da remoto E allora dove Oh Yikes Unidentificato user Please provide name and function My name It's uh Alert, level 5 Burglary in process What the Please remain still Until agents arrive To arrest you I'm no thief Triangle head And don't you have more urgent business to take care of? Like The fire? Inappropriate attitude detected Request for applicable disposition Database search in progress Network unreachable Closest range of action in local data is Neutralize the individual at all costs That tin can is crazy No point trying to reason with these things Please don't interrupt the destruction process Here it comes Ok Allora Ok Ah, andato? Ah, semplice così E insomma Ah, sì Ci mancava il fuoco Eh, sì Andato, quindi? Ah, aumentò pure il livello Ah, sembra che questo E' la ultima Ehi La porta è appena installata Questa qui Ok Block è più agile di quanto sembra Innanzitutto in posto alla modalitazione Posizione del terreno in cui vuoi saltare O spazio Puoi saltare su molti elementi Nelle istanze in cui investigherai Dimenticarlo quando un oggetto sembra fuori dalla tua portata Ah, interessante Colpevole È comparso Lìa 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 Eh, prendiamola, no? Ok Ok, un attrezzo per Aprire qua Va bene, ok Però Un attrezzo dove lo posso trovare? Ah, vabbè Pensavo di andare da un'altra parte Ah, a proposito Ci sono i Che cos'è buco? Ah, sì Colpevole C'era scritto Allora Se cambi modalità Ah, rompi la vetrinetta Vabbè, ma Non mi pare che ci sia niente per far Beh, in realtà Premi a forma Sbara di pillola Dov'è la Sbara di metallo Ah Ok E infatti è quello che avevo pensato all'inizio A dire la verità Va bene Sbara di metallo Con mobile caduto So heavy I have to No I'm not strong enough All your fault What? Murderer Dramatico Uh-huh Sbara di Oh no, I'm sorry, I love you, but I'm just not strong enough. You should have known. Huh? What's going on? I'll get some help. Don't move. Of course, running away, like always. I'm not, but... You'll be judged for your sins. No, no, the ground. Is everything collapsing? I'll... stay here. Liar! You left me alone! No, I won't. I'll never forget. I'll never forgive you. No! È un sogno, dai! Che drammaticissimo! E infatti... E infatti ecco qua. Oh! Morning. Another nightmare, huh? Uh, I guess. Somebody called you earlier. Who? How would I know? Check your phone. Right. Okay. Oh. Six phone calls from the same guy? I'd better call them back. Hmm. Oh, finally. I thought you'd never reply. Yeah, sorry. I, uh, had, uh, personal issues. So tell me, your name is Sin? Do you need my services? Of course I do. You're my last hope. Please, come to my apartment. I've sent you the address. Wait, aren't you gonna tell... There's no time. And the line could be tapped. Oh, okay. Hurry. Ah. Ah. Why do I only get weird clients? I'd better get ready. Okay, abbiamo visto l'inventario, abbiamo visto appena appena un paio di cosette, oltre il confine. Stormento, bastone. Okay. I bought it to bring some oxygen to the room. But it looks like it's dying. Loving a plant in an underground apartment wasn't such a good idea. Yeah. Ah, my good old sparring partner. It's had rough days, but it's still kicking. Whenever I feel like hitting something, it's there for me. I can gain some experience by throwing a few punches. Just have to get myself into fighting position. Huh. Okay. Ah, le animazioni del combattimento, tutto sommato, sono fatte piuttosto benino, sapete? Ancora di nuovo. Vabbè, okay, anche basta. Foto. Minchia. Quindi sì, è proprio un'avventura a punta e clicca, però è anche picchiaduro e questo è strano. Strano per essere strano. Ciotola di frutta. Pampalmi. Pampalmi. 5% di pesticidi. Ripresti nel 25% di salute. Ok. Benza. Scuola. Mossa oggetti. che miseria la storia è dammatica forte è ma che è solo perché sei un po' giocatore è un giocatore scolteghi o' giocatore sì un paio di ragazzi non puoi per fare un po' non puoi non puoi un po' una un po' un po' è è è è è è è Ok, ehm... Soldi? Oh, certo. Vedi che la mia account è limitata. Preferirei che mi daria direttamente invece di chiedere un AI per qualche cosa. Ecco, 30 uniti. Ecco, grazie. Ok. Cuidate. Sì. Ehi, cosa sta succedendo con l'autoclean tribot? Non lo so, sono entrata così da mattina. Magari dovrei... Non mi piace. Oh, beh, sembra che siamo entrata a casa oggi. Non è possibile. Ah, non posso proprio uscire. Ok. Piatti. E' il tuo turno. Che? Allora? Non l'ho fatto l'esterno? No. L'ultima settimana. Mano, il tempo si vede. Lo so, è una messa. Ma ora sono attento. Ho bisogno di fare il meglio di ogni piccolo spazio disponibile. Hey! dove pensi che sei andato? Ehm... Il tuo ruolo? Sì. Il mio ruolo. Ok, ok. Ma ho bisogno di uscire a volte. No. Abbiamo un'autoclean tribot per questo. Certo. Va bene. Ehm... Ah, il frigo. Ehm... Non c'è molto. Ehm... 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 Ma cosa? Telefono di Brock affamato di pubblicità. Ci sono te pubblicità da trovare in ciascuna zona. Usale per ottenere indizi quando ti blocchi. Ehm... Che altro c'è da... Da vedere? No. Ti sei appena svegliato. Allora... Ehm... Sorry little bot. Ok. Un bot pulitore. Pelo di gatto. Ma... Davvero? Interessante. Vabbè, posso uscire adesso. Non c'è di lavoro. Un robot brutto. Cassetta alla posta. Sistema postale. Targhetta. Hm. In effetti. Sistema postale. Sistema postale. Sistema postale. Please confirm your identity by pressing the touch panel. Security. Tighter security. Always more security. When did the world become so complex? You've got mail. I was afraid it was gonna say that. Ok, quindi? Eh ma dove... Ah ok, eccolo. Ehm... Va bene. Ehm... Ok. Va bene. Ragazzi allora... Un'altra chiamata. Un'altra chiamata. Ehm... Allora io direi che ci possiamo fermare qua. Ehm... Con questa prova. Effettivamente avrei voglia di andare avanti. E una volta che esce il gioco completo dovrei davvero tenerlo d'occhio perché è molto carino. A me le avventure grafiche punta e clicca piacciono di brutto. E vabbè il combattimento è un pochettino riduttivo per adesso ma immagino che si complicherà leggermente. Però mi sembra caruccio e questa combinazione non l'avevo mai vista quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. D'accordo ragazzi? Bene, io direi che per oggi è tutto. Grazie mille per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo e come sempre ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram. Tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie proviamolo e anche il link per acquistare il gioco. Se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A presto! Grazie a tutti!